Professor Massaia, cosa è cambiato nel trattamento del paziente? È cambiato molto poco, nel senso che i farmaci che sono attualmente a disposizione sono i farmaci di dieci anni fa. È cambiata molto la ricerca nel campo farmacologico, nel senso che ci sono sempre più molecole che sono in via di sperimentazione, ma al momento attuale non vi sono ancora alternative ai vecchi farmaci. I risultati verosimilmente delle nuove sperimentazioni saranno disponibili fra anni, 4 o 5 almeno. Recentemente sono fallite delle sperimentazioni su farmaci che sembravano essere promettenti. Il bersaglio attuale principale delle terapie farmacologiche è l'amiloide, attraverso gli anticorpi monoclonali oppure i farmaci che chiamano i BASE, gli inibitori della beta-secretasi. Adesso stanno iniziando anche nuove sperimentazioni cliniche su farmaci che hanno come obiettivo la tau-protein. Ma come ho detto prima, verosimilmente i risultati, se saranno positivi, saranno disponibili fra anni e in tal senso successivamente ci vorrà ancora il periodo per cui la molecola deve essere poi registrata e poi entrare in commercio. Quindi per adesso all'orizzonte non tanto di nuovo, ma molto di cose già conosciute e tra virgolette vecchie.